Con la canzone Per un tuo sì di Bari Camis Mazzoni, Filippo Venini di Griante. Griante è in Tremezzina, abbastanza lontano eh, c'è arrivato in Val d'Intelvin che te, bravo. Allora Filippo Venini con la canzone Per un tuo sì. Per un tuo sì, mi trovo qui, inchiodato qui, sei sempre tu la mia pazzia. Per quel tuo sì, hai piedi qui, ma accorgo che non sei la donna che sognavo. Con le bugie, con le manie, di far di più, sempre di più, di essere chi non sei. Sia quel che sia, la tua fantasia, non si arresta mai, nelle cose che tu fai. Tu sempre prendi, e poi tu non dai, io ti ucciderei, come tu stai uccidendo me. Questo farei, tutto questo sì, è sempre che non amassi solamente te. Per quel tuo sì, mi trovo qui, e mi accordo che, se tu sei tanto, poco via. Le notti mie, le mie follie, per far di te, quella che veramente tu non sei. Le ingenuità, e i compromessi, che pago io, ora lo so, sono stati inutili. E adesso io, cosa posso dire, tu sei stata brava, non si può negare, no. Che grande attrice, che sei stata tu. Io ti applaudirei, ma la farsa finisce qui. Io brinderò, e festeggerò, a modo mio, questo quasi certo nostro Dio. Grazie. Grazie Filippo, grazie. Al terzo posto si è classificata Millie Montanari. Restano da premiare, l'ho già detto? Sì, lo ripeto, i primi tre posti sono stati offerti dalla ditta Bordogna. No, no, vabbè, comunque lo ridico, io non ho problemi. Allora, rimangono da premiare, Filippo Venini e Emanuela Pistore. Li vogliamo qua? Passo avanti. Allora, chissà chi ha vinto, vogliono la targa anche te. Mamma mia, chissà che bella. Vi date una stretta di mano, e vinca il migliore, anche il bacio, non era in programma, ma va bene lo stesso. Maestro, cosa facciamo? Tiriamo sorte? Allora, lei maestro consegna la seconda, il Paolo consegna la prima, il Marco Ferradini consegna la prima. No, perché non lo vedevo. Prendi quella targa. Allora, lì ci deve essere scritto il primo, qui dovrebbe essere scritto il secondo. Quello è primo. Questo è secondo. Maestro, faccia un passo di là e consegna il secondo a Filippo Venini. È il primo a Emanuela Pistore. Contenta? Contento Filippo? Bene, grazie. Rimane da segnare la targa per la critica. E' stata aggiudicata alla signorina Chicca Gervasoni. Spero che siate tutti contenti. Vi aspettiamo al terzo festival della Valdintelvi. Grazie. 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 Grazie a tutti.